Vi parlerò delle barbe delle persone che dicono le donne, dicono sti uomini che tenne le barbe, no? Sa credere che quella è virilità, ma quale virilità? Lì ci vuole l'anerchie, non la barbe, ci vuole l'anerchie, che le barbe, quale virilità? Alla fine la prova della verità è sempre l'anerchie, se non si capisce, tagliate le sue barbe, non potete fare, manca una scarpetta, lo viate, che vi pozzo tutte le sepile. Come facete? Puzzate, fatevi le barbe, cercate di essere ragazzi, giovani, anziani, puliti, belle, ma non che la virilità, quale virilità? Alla fine senza l'anerchie, non c'è, andiamo avanti. Riportato sul Pescara.